fratti succhiere il cazzo Salve a tutti e bentornati in versus time come vedete questa intro sto facendo un pochino di staccata dal resto del video perché c'è un pochino di cose da Da chiarire. Innanzitutto finalmente sono riuscito a rifare un versus time con un po più di gente che non sia mio fratello quindi Finalmente sono riuscito ma non è venuto esattamente come volevo. Ci sono ancora alcuni piccoli problemi con l'audio Il video è stato fatto un po l'ultimo secondo perché aveva organizzato tutto un pomeriggio per per permetterci di registrare vari giochi Organizzarci per bene e tutto ma è andato tutta puttane perché come al solito se se non ho il 100 per cento il controllo delle cose Qualcosa la puttane ma sì disclaimer all'inizio video ci saranno molte cose poco family friendly perché sono con gli amici Questo sarà praticamente il filo conduttore che collegherà ogni singolo episodio di versus time con i miei amici quindi Aspettatevi molte cose del genere sicuramente futuro riuscirò ad organizzarli un pochino meglio che non credo che riuscirò a fare troppi Miglioramenti perché non ho più microfoni non ho roba del genere può aiutare a creare un audio costante per tutti Ma vabbè sicuramente futuro riuscirò a creare comunque qualcosa di meglio per il momento guardate questo primo decente episodio di versus time perché Ne ho registrati tre finora uno è compasso senza telecamera uno è compasso senza audio di gioco l'altro non è uscito Quindi questo è il meglio per ora ma quindi torniamo al video Ok non so se Uoma Hai più tanto il raging blast Quanto è orribile la sicurezza del raging blast E' quella di Tenkaico Ah davvero? Si fa cari Possiamo giocare tutti assieme qua c'è la modalità del torneo Mettiamo cinque giocatori Sono io a scegliere il primo E fate lui Vai Allora sono molte scelte Perfetto Dice che vuoi Casuale Casuale? Si Eh beh Santivise Così quasi lo fa anche io Casuale Guarda lo faccio anche io Nappa Sette fratelli praticamente Stessa saga Ah go ragazzo Gohan Gohan mediano La tangente di Gohan Secondo me è bello No è un canale veramente molto Nooo Mi stessa tanto Eh beh 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 Mi è uscito lui quindi devo prendere lui Oh il primo combattimento è C18 Nappa Quindi con i due E' tempo di menare le mani come si dovrebbe Con quello però mi fa chiedere i tasti No Puttana Yes Grandinizio Come si tirano i pugni Guarda quanto se lo diventavo grosso Sulca Con paura io Eeeh Eeeh E' stato giocato a Poglie No no Devi prendere Non avete cliccato niente Assolutamente E' cliccato qualcosa Puzzante Ah ok ok Se lui lo indovina Si difende Sei difeso Se lui non lo indovina Invece prende tatticante Questa cosa fa cagare Posso dire cazzo Eh ah si Guarda Eeeh 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 Male Male Brutto Eeeh Bella a tutti ragazzi Stai giocando molto meglio del loro Comunque Eh bravo vedrai C'ho giocato fino ad adesso Ma che hai fatto un combattimento E hai detto basta E hai chiuso il gioco E' vero Si abbiamo giocato a TenkC3 dopo Bravo Non so cosa sto facendo Dai e Uh Oh Brava l'ho completata vedrai E hai dato un'intera barretta Io ho culo in queste cose Eh beh Come ti permetti Che cazzo vuoi Comunque io c'ho Eeeh Il com Ma che è matto The come back Lui è passato Lui è passato da solo contro il computer Che non è un grande obiettivo Però Secondo me voi due Un po' di cazzi Sta Gohan piccolo Stai Contro uno In vive criticando Oh Spermendo Ring out Non mi sembra In contrastato Non mi sembra il caso Devo fare il mio round Mi lasciate da solo Si Che schifo Io ho mister satan Mister satan cool E' tipo Il La cosa più casuale E' la cosa più standard E' la cosa più standard Nella casualità Che possa succedere Si Perchè non può succedere Personaggi inutili Io non mi posso detrasportare Io non mi posso detrasportare No 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 Vincino te Vincino te Si Yes E' la caga più grossa del mondo Perché so che ogni colpo Leggermente più lontano Rispetto a un colpo normale Non mi posso detrasportare Allora aspetta fermo 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 Abbiamo controllo sbagliato Oh Allora aspetta aspetta Ti spiego i comandi Allora, e poi, se io ti attacco così, te fai x avanti verso dove ti attacco io ti teletrasporti Però devi tenere la città GG, beh vabbè, ci stava Sì, però Mr. Satan non ti rende più schienze No, è un po' scelto casuale La tua è un po' bagnata Guarda, ha proprio zero pietà Cosa? Ah, ok, è una mossa, pensavo fosse una trasformazione Sì, mi sono trasformato Oh, oh, oh Ah, sei muoto Eh Nooo È troppo difficile È troppo difficile Non potevo fare niente Ma io non potevo neanche farlo Io non potevo neanche No, no, abbiamo tutti i personaggi sbagliati Io mi meno ogni volta all'inizio Siamo come una merda Nudo Nudo Come E' appiantato E' appiantato E' appiantato E' appiantato E' appiantato E' appiantato Bravo E' appiantato E' appiantato E' appiantato E' appiantato E' appiantato E' appiantato puttana perchè perchè le sto buscando e basta perchè le sto buscando e basta la sua main l'ha distrutto io questa cosa non l'avrei detto a pubblico ministero ma sei scarsissimo ma è abbastanza da 2092 dai c'è io non ti metterai a camperare ma che camperare vada ti stai distruggendo il camping time oh scherzo borda avanza ma ho messo una casaccia ragazzi mettere mi piace se anche voi avete convertito al digna borda salvatore basta ragazzi ma overpower io sto spammando completamente a caso ma infatti sei grasso ehi tanto si fa esplodere no questo forse non dovevo questo è un balcante attenzione attenzione e sei ancora lì perché sta anche con te te che hai preso yoshimitsu poi sono un po' un po' arruginita si l'abbiamo fatto tutto il pomeriggio raga ma è sgravo sto cosa oh mi ha colpito comunque è tremendo sta cosa stai distruggendo oh ho levato troppo stop please adesso però ti ho fatto il rimontone oh adesso tra bob e me però se vuoi cioè non è non è che questo è un grosso problema lucky chloe lucky chloe è il personaggio di più lucky chloe è proprio potrebbe essere il mio personaggio è nuova puoi scegliere giuro 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 aspetta ma è feca speriamo giusto penso lo metteremo cosa stai dicendo? guarda 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 quello spammino guarda come viene mirato il sassano un personaggio di overpower vedi? quando uno è bravo maiala non so neanche cosa maiala la ragazza non so neanche uno no guarda il microfono ti dice la smetti con questa merda fra è l'unica cosa che sta a fare Steve no non può tirare calci lo so ma puoi dire sta zitto ma basta vedi sono troppo bravo a fare sta moda mi piace il timing con cui hai preso mentre ti stavo manando wow ma qualcuno è nella campo no no dai te contro di me io contro di te quant'è lei mi smashe jack7 io non so te non sai giocare questo si sapeva questo dissing continua è bellissimo guarda mi spammi guarda mi spammi ma ragazzi non è spam è come funziona steve per i newbie si 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 aspetta 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 fammi fare al tuo posto con lei aprile sei una merda qua la guardalo il pezzo di me eh madonna madonna no primo round madonna madonna ma poi te sei imprevedibile merda a c'è... mentre lui più o meno che capiva cosa faceva te sei proprio un pò distrutto dai che facciamo un'altra con questi qua si si tanto ok scusare eh porca puttana la pavete si lo so e dai e qua Forco Ci ha fatto non mi devi sfidare. Il microfono. Senti io ci andavo vicino come tua mamma Pensa quando hai visto che state con tutto chiuso tutte le luci accese di giorno quando vuoi anche lo so utilizzare ma io non Penso di utilizzare qualcuno Qualcuno È stato molto più difficile combattere un prodigio Stai distruggendo è stato il digio che è super infame come Non ti fare fare Eh no Si sa che mi farà un pezzo No Eh faffanculo Lui mi ha fatto una vittoria feo Chi se ne frega Piange Isperato Bellissimo questo scambio di colpi Vai uccidilo Daniele Oh Non l'ho fatta apposta Non l'ho fatta apposta Non bisogna andare Sono usciti quando si Mi hai girato attorno È stata bellissima Ma dai Super infame anche la mia vittoria però Facciamo l'ultimo match e diciamo che è finita Ma io vorrei fare un'ultimo match con te Allora Devi fare select character Si Io vedo nessun select character Io vedo stato un character select Eccolo Diggio Diggio Se si sceglie non ho messo altri Di voi mi interessa Oh Che è venuto Eh non chiudi gli occhi Devo giocare agli occhi chiusi Ok Dico io quando prendermi Ok Tanto che non ti rendi con voi Ok Vabbè scusa No questo non lo so io Questo è lui Eh no Io lo so Io l'ho scelto nudo apposta Contattatemi Fra succhi un po' Imparo a spammare Quando hai la barra rossa Si Con quei due Con questi due Fai la mossa Oh Aspettila Sta zitta Sta di cazzo entra Guarda quanto è grosso Vedi? È grossissimo Fra io sono stanchissimo Almeno lui cerca di fare cose nuove Fra ti succhiere il cazzo Eh questa non lo puoi mettere Non lo puoi mettere E insulta la mia immagine Perché si Oh anche questa non lo puoi mettere Oh 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 ılmış Adesso Anche la difesa Non ti possa essere immortale No Si Un cazzo In gola Ma che s***o Metti solo Ho trovato lo spam E basta Sai che mi ricorda Sarebbe perfetto Sai che mi ricorda Ragazzi ma Combo breaker E credo che con questo possiamo finire Ma quindi sì Fatemi sapere se i versus time organizzati in questo modo Vi possono piacere In futuro sicuramente farò pure un riprendo della serie Eppure per le estetiche e robe simili Perché volevo creare delle cose un po' più fighe Ma per il momento vabbè Ma quindi Spero che vi abbia apprezzato Spero che vi abbia apprezzato Ciao a tutti Lenzu Avrà funzionato Qual è stato il sito e mezzo secondo? Uno, due, tre Lenzu 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 Lenzu